Sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo pozzo per la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo del comune di Marsico Nuovo, nella zona di Pergola 1, in provincia di Potenza. Questa è la notizia che si apprende dal sito ufficiale dell'ENI. Lo scopo del progetto, si legge, è la perforazione di un pozzo di ricerca per avere una miglior valutazione della quantità degli idrocarburi contenuti e di quelli recuperabili nel giacimento. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto, l'ENI è documentato con una relazione anche un piano di monitoraggio ambientale e raccolto una serie di pareri e autorizzazioni da parte delle istituzioni preposte. Intanto prosegue l'installazione delle principali apparecchiature della quinta linea di trattamento gas presso il centro olio Valdagri di Vigiano. Nella giornata di giovedì 13 febbraio, con l'ausilio di mezzi e operai specializzati, è stata installata la colonna di rigenerazione a mina, alta 29 metri circa e larga 4 metri e pesante 62 tonnellate. La struttura è giunta a Vigiano tramite un trasporto eccezionale dal porto di Taranto. Il programma dei lavori prevede per i prossimi giorni l'installazione di due filtri per l'impianto a mina di 9,2 tonnellate ciascuno. A seguire, nelle prossime settimane, è previsto il montaggio di portali come predisposizione per il sostegno alle tubazioni.